Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Gesù Cristo, tanti auguri a te. Allora oggi è il Santo Natale, il Gran Varietà Religioso comincerà alle ore 9.30. È arrivato il Natale! Non sono pazzo, è la Vigilia di Natale! Far Natale, far Natale, che bontà, si fa per noi, è nostro ormai, che favola, che pesca sarà. Credo che ne serberò una per il prossimo Natale, aspettandolo, tu che ne dici, vi ho un bacio in bocca, papà Natale. Qualcuno è rimasto emotivamente scomvolto. Guarda papà, guarda, la maestra dice che quando suona una campana, un angelo mette le ali. È vero, è vero. Grazie, Clarence. Non sarete uno di quei bastardi che dicono il Natale viene una volta l'anno ed è una frode, non è vero! Il tuo nome sarà Babbo Natale. Babbo Natale, buon Natale. Buon Natale, buon Natale. Buon Natale, maledetto animale! È felice anno nuovo! Ciao a tutti i lettori di News Cinema, questo è solo un piccolo pensiero per farvi tanti tanti auguri di Buon Natale. Grazie e continuate a seguirci! Carissimi lettori di News Cinema, innanzitutto Buon Natale! Continuate a seguirci e ovviamente continuate ad andare al cinema. Per gli amici di News Cinema, tanti auguri di Buon Natale e soprattutto di tante splendide visioni. Auguri di Buon Natale a tutti i lettori di News Cinema, ciao! Amici cinefili, tantissimi auguri di Buon Natale dal News Cinema. Tanti auguri a tutti, vi auguriamo il 2016 fantastico, sempre alla segna del Buon Cinema e ci auguriamo che continuate a seguirci sempre. Baccio! Dai lavori in corso di Piazza della Repubblica e da me tantissimi auguri di Buone Feste a tutti i video ascoltatori di News Cinema. Amici di News Cinema, Buon Natale! E un consiglio, quest'anno non sprecate troppe forze per fare i regali, ma piuttosto utilizzatele per andare a vedere il film giusto al cinema. Buon Natale a tutti i lettori di News Cinema! Tanti auguri di Buon Natale a tutti i lettori di News Cinema.it Tanti auguri di Buone Feste a tutti i lettori di News Cinema! Buon Natale a tutti i lettori di News Cinema!